Siamo pronti a dare il via anche al primo cantiere del 2024, si tratta di Piazza Andrea Costa, un'area dove andremo a fare una riqualificazione importante per un valore di 1.400.000 euro che proprio lunedì 15 vedrà l'inizio dei lavori. Abbiamo pensato assieme alla ditta e ai tecnici che hanno collaborato al progetto di iniziare proprio dalla parte, quella diciamo adiacente agli edifici, proprio perché essendo un'area storica e di possibili ritrovamenti archeologici andiamo ad indagare quella parte per poi allargarci. L'area ricordiamo che verrà in questa prima fase, non creerà disturbo a nessuna attività, nessun esercizio neanche né del mercato e altri esercizi, perché comunque verrà a prescindere dai lavori sempre garantita la pedonabilità e l'accesso, sia all'interno delle abitazioni che degli esercizi commerciali. Divideremo l'area naturalmente in cinque aree di intervento, partendo appunto da quella che si affaccia alla Pinacoteca San Domenico verso via Arco d'Augusto, lato dove ci sono gli edifici, dove c'è la pizzeria, dove c'è il pub e appunto inizialmente indagheremo quella parte lì, la lavoreremo, poi andremo a lavorare su tutta quest'area qua, la seconda fase dell'intervento sarà questa, che è quella appunto che riguarda, che si affaccia agli edifici ma anche alle abitazioni, la terza area sarà quella della pescheria nel suo interno, la quarta area sarà questa, quindi davanti alla Fondazione Carifano e la quinta invece dove c'è il McKenzie e tutte le attività. In sé per sé è un lavoro non troppo complesso, si tratta di una riqualificazione della piazza quindi nel rifacimento di una nuova pavimentazione a Selci con delle lastre di arenaria, una nuova illuminazione, faremo l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche e la riqualificazione di quello che è l'edificio proprio della pescheria, oltre che in un'illuminazione scenografica che valorizzerà sia la parte bassa ma anche spinta verso l'alto rispetto a quelli che sono gli edifici ma anche la Pinacoteca San Domenico. Purtroppo non riusciamo oggi a quantificare quello che sarà un tempo vero, in quanto i lavori in sei mesi dovrebbero svolgersi, ma in base ai ritrovamenti e ai sottoservizi e quello che succederà mi sento di essere prudente questa volta e dire che insomma mano a mano aggiorneremo su quello che sarà poi lo stato dei lavori. Comunque siamo contenti perché anche questo nuovo salotto della città e ricordiamo che i salotti della città sono un po' come le nostre case, all'interno delle nostre case vogliamo accogliere le nostre persone nei luoghi dove meglio riusciamo a raccontare la bellezza dei nostri posti.